Concessa la facoltà d'uso per la discarica di Contrada Martucci a Conversano, a circa una settimana dal sequestro preventivo dell'impianto, la Procura di Bari ha deciso di concedere l'uso di una delle vasche della discarica di servizio e soccorso per sversare i rifiuti dei 21 comuni del bacino Bari 5 pur rimanendo sotto sequestro. Il provvedimento è stato disposto ieri sera dal pubblico ministero della Procura di Bari, Baldo Pisani. Dunque i comuni del sud-est potranno riprendere da oggi lo smaltimento dei rifiuti ma potranno farlo soltanto per 30 giorni, arco temporale utile per avviare le indagini da parte dei periti della Procura sul rischio presunto di infiltrazioni nella falda. Dunque la situazione nei comuni del sud-est barese migliora lentamente, tuttavia nella giornata di ieri gli autocompattatori hanno raccolto circa 1300 tonnellate di spazzatura per la strada, circa 800 in più rispetto alla normale raccolta. Non sono mancati ovviamente i disservizi che hanno scatenato forti polemiche tra i cittadini. Per questo è stato convocato lunedì a Conversano un consiglio comunale straordinario e monotematico sull'evoluzione della vicenda, durante il quale si parlerà anche del bilancio comunale che non riesce ad incassare dai comuni dell'ex bacino 5 la quota di ristoro ambientale. Una buona notizia per Trani che dovrebbe essere così sollevata dall'inconvenza di ospitare per altri nove giorni i rifiuti del sud-est barese, così come previsto dall'ordinanza straordinaria firmata dall'assessore regionale all'ambiente Nicastro. Ieri infatti si sono verificati numerosi disagi per le lunghe code di camion che dovevano sversare i rifiuti sulla statale di Andria.